Musica 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 Stiamo continuando a fare la campagna di sensibilizzazione di una spiaggia per tutti, siamo allo scorso questa volta e come sempre i problemi della partigia, non ci sono i tre metri, siamo riusciti ad entrare, pochi giornalisti non sono entrati, però stiamo facendo quello che abbiamo fatto altre volte, c'è riuscire a ridare alle persone la libertà di arrivare al mare senza dover pagare il biglietto di ingresso. Musica 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 Senza Alvita Usa Grazie per la visione